L'ho messo in moto La squadra è 13,50 m, ha 8 posti letto, interessa, operativo da Papassiera 656, schini da 650 cv sotto, è una barca che raggiunge circa 30-32 nodi La più grande nostra è il nostro pattugliatore costiero a lungo raggio, diciamo, per le isole Le due moto che avete visto sono due moto Yamaha 1.8, due moto Yamaha 1.8, sono circa 180 cv cada una e vengono utilizzati nella vigilanza costiera a breve raggio, cioè dove c'è contatto con le persone L'ho messo in moto La squadra è la squadra, per la squadra! La squadra è la squadra di un po' di un po' di uno La squadra è la squadra di un po' di un po' di due Grazie a tutti.